Siamo a Muro Lucano in provincia di Potenza dove è stata realizzata la torta alle fragole più lunga del mondo, una torta da Guinness. Sentiamo chi l'ha realizzata e chi l'ha assaggiata. Una torta da record, abbiamo valorizzato un prodotto della Basilicata, siamo orgogliosi di fare questo evento, di portare movimento alla comunità di Muro Lucano. Allora la torta è lunga 105 metri, le fragole erano due quintali, hanno collaborato una quarantina di persone volontarie. Possiamo dire che ufficialmente è stato battuto il Guinness mondiale per la torta alle fragole più lunga del mondo? Sì perché quella precedente era di 102 metri. Signora l'ha già assaggiata, è anche buona? Bonissima. Ancora non l'ho assaggiata, non lo so. Una domanda al volo, avete mai visto una torta più lunga di questa? No, no, incredibile. Ragazzi avete assaggiato la torta? Certo. Com'è? Molto buona, speciale come chi l'ha fatta d'altronde. Signora scusate se disturbiamo la vostra diretta, mai hai visto una torta del genere? No. È la prima volta? Sì. Com'è questa torta più lunga del mondo? Molto buona, molto buona. Guarda è una cosa fenomenale, bellissima. E anche buona? Buonissima, sì. La torta l'abbiamo assaggiata, era buonissima, è una bella idea, una bella scenografia. Mi piace questa idea, lo ripeto perché sono delle cose belle da far vedere. Grazie. Ottimo, ottimo, grazie. 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 Grazie.